Giorgios Costanidis Contro di lui, all'angolo rosso, da Pistoia Italia Martin Meoni Match di altissimo livello Ricordiamo che Martin Meoni è un fighter internazionale che ha combattuto su tantissimi ring a livello internazionale Ricordiamo il match contro Sayok Pung Panwang al TIE Fight, Michael Piscitello al Top King World Series contro Kem Sizzopenong veramente un atleta d'elite Lui viene da Pistoia alto molto di più rispetto al suo avversario ha 43 match all'attivo 181 cm per lui 28 match 20, 12 persi Il suo avversario Giorgios Costanidis è il campione greco di categoria lui viene sempre da Salonico quindi in Grecia 26 match all'attivo 19, 20, 6 persi 1 pareggiato 7 di questi match vinti sono arrivati per KO quindi molto interessante come match anche perché deve essere stato studiato in maniera diametralmente opposta guardando la struttura fisica dei due fighter alla destra dei vostri teleschermi sempre con il guantone della Sphinx tricolore verde bianco rosso il nazionale Martin Meoni guantone un picchiatore contro un longilineo esattamente sfida che è molto molto interessante prova la combinazione con due colpi Costanidis piazza una low kick Meoni va a bloccare la gamba attenzione a questo tentativo di gomitata saltate si apre subito un taglio sulla testa di Giorgio Costanidis che va subito ad esultare ma c'è bisogno prima del verdetto del medico ma inizia a sanguinare non molto e non poco dalla testa, dalla nuca quasi ma siamo vicini alla tempia quindi una zona anche un po' pericolosa taglio molto profondo esce parecchio sangue scuote la testa il medico di conseguenza arriva lo stop da parte del direttore di gara galvanizzato anche da questa vittoria fulmine abbiamo visto il nostro Martin Meoni cimentarsi una sorta di flessioni proprio per dimostrare la sua forma fisica il suo combattimento rivediamo la ginocchiata non la ginocchiata la gomitata saltata non so se un sock sub esatto se è stata quella che abbiamo appena visto ce n'è stata un'altra questa che abbiamo visto vince questo incontro per RSC a 56 secondi della prima ripresa Martin Meoni vince Martin Meoni che è stata un'altra grazie a tutti che è stata un'altra grazie a tutti che è stata un'altra